Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come Letizia di Spagna, terremoto nella famiglia reale iberica, proprio lei è cacciata da Palazzo Reale Filippo VI di Borbone ha sgamato tutto e ora la vuole lontana dalla sua vita La regina rischia di perdere ogni cosa.Marito di Letizia di Spagna. Letizia Ortiz potrebbe perdere tutto, non solo il titolo da regina, ma tanto di più Il sovrano Filippo VI Borbone ha scoperto il suo segreto e ora la vuole fuori dal Palazzo Reale Che cosa sta succedendo a corte? Scopriamolo.Letizia Ortiz cacciata dal Palazzo Reale Proprio come i reali inglesi anche quelli spagnoli attirano l'attenzione del mondo I tabloid nazionali e internazionali parlano quotidianamente di Filippo e Letizia di Spagna La ex giornalista spagnola e il principe delle Asturie nonché attuale re della penisola iberica, stanno insieme da tanti anni Letizia di Spagna e il marito.Sposati dal 2004, sono genitori di Leonor, futura sovrana di Spagna e dell'infanta Sofia Proprio recentemente, la primogenita dei sovrani spagnoli ha attirato l'attenzione per via di alcuni problemi di salute La principessa, che ora si trova in Galles per completare i suoi studi, sarebbe affetta da agenesia dentale Un problema che comporta la mancata crescita dei denti e che crea in lei un disagio psicologico di non poco conto Tuttavia il principe Filippo non deve solo combattere contro il malessere della sua primogenita ma anche contro chiacchiere e pettegolezzi che riguardano la moglie Arriva una notizia che sconvolge tutti, il sovrano di Spagna ha deciso di cacciare Letizia da Palazzo Reale Filippo è furioso, la regina fuori dalla corte.Il re spagnolo avrebbe scoperto tutto, sua moglie Letizia Ortiz avrebbe intrapreso una relazione sentimentale con uno spasimante misterioso la cui identità, per il momento, resta sconosciuta Filippo re di Spagna.Mai il segreto della sovrana è venuto allo scoperto, Filippo è furioso e vuole che sua moglie faccia le valigie e lasci la corte e il palazzo nel quale fino ad ora ha condiviso la vita familiare con lui, Leonore e Sofia Ma non è questa la sola notizia clamorosa. Si mormora infatti che il sovrano voglia portarle via anche le figlie Le due sorelle, Leonore e Sofia, in caso di divorzio, sarebbero costrette a rimanere con tutta probabilità a vivere solo con il papà, in quanto patrimonio della corona Lontane da mamma Letizia, vivere per loro non sarà assolutamente semplice Le tre sono legatissime. Questa volta però Filippo non scherza, è davvero furioso, ha perso la pazienza e Letizia rischia grosso La sovrana non solo può perdere la corona e il suo posto da privilegiata ma anche il suo tesoro più grande, le sue meravigliose figlie Non è la prima volta che vengono fuori notizie di presunti tradimenti che ostacolano il matrimonio di Letizia e Filippo Già qualche mese fa, la sovrana spagnola era stata protagonista di gossip e pettegolezzi per via di regali e fiori che ha ricevuto da uno spasimante segreto e misterioso Questa volta Filippo avrebbe scoperto il suo segreto, una relazione che va avanti da tempo Si tratta per il momento di voci da confermare ma i mass media internazionali sono sicuri che i problemi tra i due sovrani spagnoli sono presenti nella loro vita di coppia da un po' di tempo e purtroppo non si prospetta nulla di buono per il loro futuro Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video